...e riuscisse a tirar fuori la sua libidina, capito? Certo, è vita per lui. Certo, basta guardarlo mentre mira le sue foto. La storia di Vania non la capirò mai. Lui gode sapendo che la sua donna fa l'amore con gli altri, ad esempio con me. Scusa, metti la data di domani, mi raccomando, grazie. Io sinceramente non ci vedo niente di strano. È uno che vive la sua sessualità così. Siamo uomini liberi. Sì, però un momento.